A Cittadella ci tengono che chi arrivi dalle loro parti sappia che si sta per entrare in una delle più belle città murate d'Italia. Così il comune si è dotato di nuove porte d'ingresso che identificano immediatamente l'immagine del borgo, diciamo pure il genius loci. La stupenda cerchia di mura stilizzata in una cartellonistica scultura che, tagliata nel metallo, riporta la merlatura della Cittadella fondata dai padovani a protezione dell'alta pianura. Una volta finite le nuove rotonde a cui si sta lavorando da settimane, in effetti la città potrà contare su ingressi di impatto e non su dei banali sparti traffici. Quasi un aperitivo per i turisti prima di arrivare alle mura originali e anche motivo di orgoglio per gli stessi cittadellesi.